Sì, è un po' avvenito domani sera, peccato che se veniva lui era carino perché sono tantissimi personaggi. Qua sono sempre canali ci vorrebbero, io pensavo che sono solo giù da noi. A livello di tutto, a livello di calcio, di politica, conosce persone nuove. A posto, non c'è un altro. O ci fai diventare. A livello di calcio, non c'è un po' di calcio, non c'è un po' di calcio. Buongiorno, siamo qui immersi nella natura per cercare di raccogliere un po' di asparagi. Siamo all'inizio forse della primavera, non si capisce più niente. e vediamo un po' di trovare qualche asparago tra queste piantine. Già qualcuno ci è passato. Ci è passato. Qualcuno ci è passato. Qui ce n'è uno, adesso lo raccogliamo. Eccolo qua. Non è il massimo, però vediamo di... Diciamo che... Arial corre. Ecco qua. Piccolo, però... Ci viene qualcuno un po' più grosso, tipo questo, che abbiamo già raccolto. Eccolo qua. E continuiamo la nostra raccolta. Ma non molliamo, non molliamo. Vediamo se... Riesciamo da qua. Eccolo qua un altro. Ecco. Questo è un po' lungo. È cresciuto un po' troppo. Ma va bene lo stesso. Eccolo qua. Lo raccogliamo. E continuiamo, dai. Continuiamo. Vediamo, ci giriamo un po' qua. Ci sono delle piantine. Mezze secche, mezze secche, mezze secche. Ma non fa niente, dai. L'albero deve rarrupe. Questo non ce ne stanno... Ah, eccolo qua. Guardate un po' chi sta qua. Bello. Questo è un bello. Questo qua. Eccolo qua. Ah, nel suo splendore. E raccogliamoci anche questo. Qualcuno si trova. Ecco qua. Abbiamo trovato un... Le garrupe. Eccolo qua. Vabbè, questi sono vecchi, però. Sper farvi rendere l'idea dell'albero, delle garrupe. Ecco qua. E non ci sta neanche... Non abbiamo trovato niente. Ecco qua. Siamo immersi nel verde con il panorama del mare. Ecco qua. Riprendiamo? Adesso, riprendiamo. Il cammino di lunga vita. Ecco, tordi che escono dagli alberi in maniera incredibile. E vi faccio vedere che qua siamo immersi in un panorama al verde, all'osio. Questa io la chiamo osio perché è un bel punto di un verde di macchina, di perla. Grazie a tutti. Grazie a tutti.